Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è di nuovo al lavoro sul piano regolatore della città. A Palazzo Badini si è svolto l'incontro inaugurale incentrato sulla lettura storica dello sviluppo urbanistico di Pordenone e sull'approfondimento dei momenti fondamentali per la sua crescita. Sono stati realizzati due plastici paralleli degli insediamenti urbani in epoca antica, con la contrada maggiore affacciata sul porto e difesa delle mura, e in anni molto più recenti mettendo in evidenza l'eccezionale sviluppo della città nella seconda metà del secolo scorso. L'assessore comunale all'urbanistica Martina Toffolo. È stata una giornata interessante ed è stata anche emozionante. I ragazzi si sono accorti di come Pordenone è cambiata, ma soprattutto hanno constatato come dagli eventi difficili abbia sempre saputo risollevarsi, rimettersi in gioco, rimettersi in discussione e progredire. L'unico elemento di giudizio che effettivamente hanno riconosciuto è stata questa forza, che è andata di là sempre, al di là della paura, del volersi bloccare, ma è sempre stata propositiva, anche portando a delle trasformazioni violente, che hanno ripercorso e costruito con il plastico che gli ha dimostrato come dal nulla, da quattro casi inizialmente affastellatesi quasi sul noncello per costruire il primo nucleo, la città si sia espansa in modo anche disordinato e abbia visto ondate di crescita che sono coincise però sempre con momenti di trasformazione. Ma da questo loro hanno capito che c'è la potenzialità e hanno dimostrato la voglia di immaginare quello che sarà per loro il domani di questa città. E per primi si sono messi in discussione. Credo che ci abbiano dato una bellissima lezione. Grazie a tutti.